Grande attesa Mondolfo per la manifestazione culturale che proporrà diversi incontri con autori di spicco nel panorama italiano. Sta per arrivare come un libro all'aperto la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo che il Comune promuoverà a partire dal 16 giugno tra vie e luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta. L'iniziativa si snoda in una serie di appuntamenti gratuiti fino al prossimo 7 luglio. Un evento con grandi ospiti, di grande richiamo, quindi siamo molto soddisfatti per questo calendario di iniziative. È una delle manifestazioni più importanti della nostra stagione estiva, molto attrattiva e siamo sicuri che porterà tante persone, tanti visitatori sia a Mondolfo che a Marotta. Il tema di questa prima edizione è leggeri e pensanti. La lettura ai libri come risorse preziose per nutrire il pensiero ma anche come momenti di svago. Dove rimanere leggeri ma non superficiali nel guardare e interpretare la realtà in modo consapevole. Partirà il 16 giugno con tre serate, 16, 17 e 18 giugno e due appuntamenti pomeridiani anche del venerdì pomeriggio, il 17 e del sabato pomeriggio il 18. Poi proseguirà il 25 giugno dove avremo la cittadinanza onoraria Francesco Cuccini e in quell'occasione ci sarà Sara Zambotti di Rai Radio 2 Caterpillar che presenterà il suo ultimo libro, Tre Cene, per poi proseguire il 6 e 7 luglio con due appuntamenti altrettanto importanti. Il 6 luglio avremo Teo Teocoli e Gabriella Mancini che presenteranno il loro ultimo libro in piazza dell'unificazione a Marotta e il 7 luglio in collaborazione con Non a Voce Sola ci sarà Umberto Galimberti qui a Mondolfo a Giardini della Rocca. A collaborare con il comune per questa prima edizione dell'evento è la libreria Mondadori di Fano. Il poter conoscere e così sarà ad ogni evento gli autori, poter dialogare con loro, poter avere la loro firma su il libro, credo che sia una cosa fondamentale o comunque una cosa molto importante per chi legge il libro perché così ha modo di conoscere la persona che ha messo su carta le parole che ci hanno fatto desiderare e sognare e quindi ad ogni evento avrete la possibilità di fermarvi, di acquistare il libro, parlare con l'autore.